Liberati, Luciano Muscu, Primo Pantoli, Gaetano Pinna e Rosana Rossi, sono intervenuti con i loro murali in un nuovo complesso di edilizia popolare a Settimo San Pietro, un centro a 12 km da Cagliari. Hanno dovuto affrontare problemi di dimensione, problemi di materiali, problemi di ritmi inconsueti, quelli di un cantiere edile, problemi di esecuzione. Un'avventura che ha permesso agli artisti un rapporto veramente diverso con la gente. Settimo San Pietro Grazie a tutti. 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 a tutti.